Eccoci qui, appena finita anche Roma-Porto, vittoria anche in questo caso, 2-1, anche se dispiace per il gol subito, ma qui sembra che già siamo eliminati con questo gol subito, onestamente, giocamocela al ritorno per bene. E niente, andiamo a leggere le occasioni che mi sono scritto. O2, non siamo noi altri a ogni partita, poi al quarantinesimo tiro di potenza di Cristante para Casillas, al cinquantitesimo Danilo Pereira per poco ha la torre di testa, al sessantonesimo Pellegrini tiro centrale, al sessantacinquesimo Pellegrini tiro violento centrale, al settantesimo, intanto tu qui che cazzo sta succedendo, Al settantesimo gol di Zaniolo, asset di Edin Dzeko, grandissimo, grandissimo acquisto direi questo, grande Zaniolo, migliore in campo sicuramente insieme con Edin Dzeko. Forse uno che non mi è piaciuto oggi, abbastanza spento, esce Araui, però. Poi al settantanquattiesimo a Monito Herrera, bel giocatore questo, esce Fernando, entra Andre Pereira, al settantesimo doppietta di Zaniolo, al settantanevesimo il gol, abbastanza fortunoso direi, perché praticamente con un tiro sbagliato prende Adel Lopez, asset di Tartiquigno, come cazzo si chiama, all'ottantaduesimo esce Pellegrini, entra Zunzi, all'ottantatresimo Herrera di pochissimo lato, mamma mia, ancora c'è lontanamente quel tiro, all'ottantatquattiesimo esce Ottavio, dentro Hernani, all'ottantasettesimo esce Zaniolo, dentro Santon, all'ottantottiesimo a Monito e Sharawi, a conferma di brutta prestazione a mio avviso, al novantesimo esce Sharawi, dentro Kluivert, al novantacattesimo Kolarov di potenza parata di faccia di Casillas, che infatti è al mare abbastanza contuso, e per niente, basta. Questa era la partita nei momenti salienti della Roma di oggi, direi una bella vittoria di cuore proprio, come non se ne vedono da parecchio, e Porto si è dimostrato davvero, tanti dicevano che era il cuscinetto della Champions, questi cazzi, direi, ci sarà da soffrire parecchio, però bisogna essere positivi, almeno adesso, e niente, quindi bene così, migliori in campo per me, migliori in campo per me è D'Ingeco, poi Zaniolo ovviamente, doppietta, e anche De Rossi, direi, ha fatto una bella partita, forse l'unico che non mi è piaciuto del tutto è stato Esharawi, oggi proprio mi è piaciuto, comunque ottima Roma, davvero vittoria di cuore, e soprattutto vittoria importantissima, perché è sempre importante vincere in Champions, tanto perché ogni vittoria ti porta diversi milioni, e quindi sempre ben accetti, e adesso ci sarà da soffrire, soprattutto al ritorno. Comunque, con Censao si conferma proprio un allenatore meteocri a mio avviso, anche se sta a vincere quasi il campionato, ma onestamente, con quel parapiglia che c'ha avuto con il Francesco, mi sembra il Morigno 2, e per me Morigno sta altamente sugli scatoli, sarà anche un allenatore vincente, ma con i suoi atteggiamenti provocatori, sti allenatori così, per carità, e niente, da segnalare per loro, secondo me i migliori in campo, Militauto, lì come cacchio si chiama, davvero ottimo, ottimo giocatore quello, anche Herrera, anche Casillas, che sul palo, non so se l'ha preso, l'ho preso, non ci ho capito niente, però comunque si conferma, da sempre un ottimo portiere dai tempi del Real Madrid, mi ricordo che era sempre un portiere top, e Militauto, Militauto, è davvero forte, comunque era il Porto, è davvero una squadra molto quadrata, però ci sarà da soffrire, infatti, fino alla fine, al ritorno lì, al cacchio, l'ho detto lì, stadio, dragao, mi pare se chiamo, e niente, buona Roma, almeno la vittoria l'abbiamo fatta, alla faccia che diceva che facevamo ride, almeno emmo confermato qualcosa in positivo, e almeno non siamo scarsi, se giocassimo tutte le volte in questa maniera, forse lotteremmo per qualche altro obiettivo in campionato, comunque, bene così, sempre, 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 forza Roma, appuntamento alla prossima.